Il piano Marshall prende il nome da George Marshall, segretario di Stato americano che nel 1947, in un intervento all'Università di Harvard, annunciò questo grande programma di intervento a favore dell'Europa. Un piano impegnativo di 17 miliardi di dollari dell'epoca, che aveva un duplice obiettivo, quello di aiutare l'Europa a ricostruirsi, a ritornare alla normalità dopo la Seconda Guerra Mondiale e a legare maggiormente le economie europee al sistema americano, sottraendole all'influenza sovietica. Per l'Italia il piano Marshall fu un momento molto importante, fu il tassello su cui poi crescerà quello che negli anni Sessanta passerà alla storia come il boom economico.